La prima sono gli studenti. E auguro voi di realizzare tutti i vostri sogni attraverso il sacrificio, la determinazione e lo studio, perché credetemi queste sono le tre chiavi per vivere bene e correttamente la vita. Ai miei genitori, perché mi hanno sempre amato per quello che sono, anche se non è stato facile affrontare alcuni momenti con loro, però mi hanno fatto fare quello che volevo, non mi hanno mai esaltato e non mi hanno neanche mai buttato giù. Grazie papà, grazie papà. Livello 3, Super Saiyan di terzo livello. A Francesco. Grazie. Grazie per essere parte della vita vita. Una persona straordinaria.